L'indicativo è un modo verbale, indica, cioè, il punto di vista di chi scrive o parla. In particolare, l'indicativo è il modo della realtà, dell'oggettività, della constatazione, in italiano, così come in latino. Se dico i ragazzi mangiano una pizza, il verbo mangiare, coniugato all'indicativo, descrive ciò che Mario e Luca stanno effettivamente facendo.